I sentieri sono ridotti a una latrina. Non usano mezzi termini Angelo Marchio e Valentina Ippolito, gestori del rifugio Capanna Monza, alle pendici del Re Segone. Troppi gli incivili sulle nostre vette, anche a causa dell'incremento degli escursionisti, dovuto alle limitazioni imposte dall'emergenza coronavirus. Così gli spettacolari percorsi montani lecchesi diventano delle discariche a cielo aperto. Abbiamo visto con grandissimo disgusto come sono stati ridotti i sentieri di San Carlo, Pradirat e Valle Verde. Definirli una latrina a cielo aperto è praticamente poco, spiegano Angelo e Valentina. Uno stop va dato l'appello dei due gestori. Ma cosa fare per risolvere il problema? A tutta questa gente chiediamo un po' di buonsenso, rispetto e anche un sacchetto da tenere nello zaino, per metterci dentro i loro fazzoletti sporchi, dicono. Infine un pensiero amaro su ciò che sta avvenendo sui nostri sentieri. La riflessione che abbiamo fatto ci ha dato un'unica risposta, dicono Angelo e Valentina. Quello che siamo lo manifestiamo con le nostre azioni. Rabbia e sdegno condivisi su Facebook da decine di frequentatori del rifugio. Chi vede segnali questi delinquenti. Ormai la mandria è uscita dal recinto. I flussi di gente così numerosa e sprovveduta, oltre che maleducata, andrebbero gestiti, quantomeno contingentati. In tanti anni che percorro questi sentieri non ho mai visto una situazione simile. Alcuni dei commenti. Abbiamo voluto richiamare l'attenzione di tutti su questo tema, degli esperti montanari, dei frequentatori della montagna e dei neofiti, la risposta di Valentina Ippolito. Perché tutti solchiamo gli stessi sentieri di cui non siamo proprietari e il rispetto non è solo nei confronti della natura, ma anche degli altri esseri viventi, animali inclusi.